Anche la maturità 2021 sarà priva di prove scritte e quanto decise dal neoministro dell'istruzione Patrizio Bianchi. I maturandi dovranno preparare un ampio elaborato sulle materie di indirizzo concordandolo con il consiglio di classe, da cui comincerà l'orale che si svilupperà poi anche sulle altre discipline. A differenza dell'anno scorso però, l'accesso alla maturità non sarà automatico, ma verrà deciso dal consiglio di classe al momento dello scrutinio. Se contro il virus originario di Juan e il vaccino Pfizer-BioNTech ha una capacità di proteggere superiore al 90%, contro le mutazioni brasiliane e sudafricana la prestazione del farmaco calerebbe di due terzi. Ad evidenziare la compromissione dell'azione degli anticorpi neutralizzanti del vaccino Pfizer sulle mutazioni è stato uno studio, condotto dall'Università del Texas e dalla stessa casa farmaceutica, sui campioni di sangue di 15 persone che avevano partecipato alla sperimentazione del vaccino. I risultati dello studio dovranno essere confrontati con quelli relativi all'efficacia del farmaco sull'intero organismo umano e non solo sui campioni in vitro. Restano però validi sia la seconda arma del vaccino Pfizer, ossia quella relativa ai linfociti T, sia l'asso nella manica, ovvero la possibilità di adattare i vaccini ad mRNA alle varianti, opzione impraticabile per quelli a vettore virale. Da giugno 2021 tutte le scuole della Nuova Zelanda offriranno gratuitamente alle alunne assorbenti ed altri prodotti per l'igiene femminile, con il proposito di sconfiggere la povertà mestruale. A far allarmare il governo neozelandese è stata la scoperta che una studentessa su 12 non si reca a scuola durante il ciclo mestruale, poiché non può permettersi gli assorbenti. La premier Jacinda Ardern ha sottolineato come nessun giovane debba mai rinunciare all'istruzione per qualcosa che è parte integrante della vita di metà della popolazione mondiale. Durante un evento organizzato dal Monza Calcio, il presidente Silvio Berlusconi esprime la sua approvazione per il governo Draghi. Per quanto riguarda la squadra di governo è una buona squadra, poi non c'è la perfezione mai in nessuna squadra di governo e io personalmente come d'altronde chiunque avrebbe scelto magari qualche altro ministro al posto di qualcuno di questi ministri, ma direi che complessivamente si può parlare di una buona squadra di governo. Noi naturalmente possiamo garantire per i nostri tre ministri che sono dei veri professionisti.